Sì Angelo, buonasera, hai detto bene, ci ha raggiunto Gaetano Auteri. Buona la prestazione, secondo il credo di mister Auteri si può sempre fare meglio, ma il Benevento risponde sul campo. Abbiamo fatto una buona partita, anche se poi appena puntualmente abbassiamo i ritmi non siamo capaci di gestire, perché perdiamo campo e perché quello che abbiamo fatto negli ultimi dieci minuti della partita è quello che abbiamo fatto per quasi tutto il primo tempo, tra i primi 7-8 minuti, eravamo in condizioni di proporlo e a volte tendiamo a gestire, però stasera abbiamo gestito meno tempo di altre volte, anche da questo punto di vista stiamo crescendo, noi dobbiamo giocare sempre un calcio intenso, però complessivamente abbiamo fatto una buona partita contro una buona squadra, anche pericolosa, poi vincere fuori casa non è mai semplice, ma alla fine abbiamo vinto con merito, questo è quello che conta, anche se ripeto, alcune piccole cose le possiamo migliorare. No, vabbè, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi, io guardo la partita di stasera, la seconda in quattro giorni, adesso domenica si rigioca, la squadra mi è piaciuta, perché poi ha giocato con personalità, con autorevolezza, quando è passata in vantaggio mi ha fatto un'azione molto buona, destabilizzandoli, per tutto il primo tempo abbiamo gestito, creato, pressato e poi l'ho detto prima, all'inizio del secondo tempo un po' di apprezzione, perché poi ce la creiamo da soli, perché il motivo è quando abbassiamo i ritmi, ma è inutile andare a pensare agli altri, andiamo avanti perché il nostro obiettivo è quello di crescere e poi valutare sempre nell'economia dei 95-100 minuti se questi punti li abbiamo meritati, alla fine li abbiamo strameritati, perché compressivamente abbiamo giocato una buona gara, anche se possiamo fare meglio, con più continuità. Ma ci abbiamo tanti giocatori, c'è Masciangelo, che è un giocatore che è fresco, ed è un giocatore importante, Simonetti può andare a giocare dappertutto, c'è Benedetti, abbiamo alternative, poi potremmo anche fare cose diverse, abbiamo una rosa ampia, per cui le squalifiche ci sono, è normale, poi a questo punto del campionato le diffide sono quasi all'ordine del giorno, no, nessun problema, non perderemo i nostri presupposti. Simonetti per ogni ruolo, anche attaccante? Simonetti può fare tutto, e anche meglio di stasera, tutto eppure un pochino meglio.